L'ottobrata bis che ha investito l'Italia non ha risparmiato il Lazio e nel sud pontino le temperature da record hanno fatto venire voglia a molti di riprendere asciugamani e costumi per recarsi direttamente in spiaggia. Ad attenderli non scele chiusi ma aperti e pronti a piazzare lettino ed ombrellone per coloro che non sono riusciti a resistere e pronti a prendere forse l'ultimo sole. Si sta benissimo, poi a Gaeta l'estate non finisce mai, anche a novembre e dicembre siamo sempre qui al mare a fare il bagno, a prendere il sole, ne approfittiamo. Le temperature dicono gli esperti continueranno ad essere più alte rispetto alla media climatica del periodo mentre le precipitazioni scarseggeranno salvo sporadici fenomeni. Il cosiddetto bel tempo dunque la farà da padrone fino a novembre. L'estate è fantastica, sono dei fine settimana stupendi dove il mare è la parte più bella dell'anno, mare stupendo, costa selvaggia, qualcosa di unico, merita.